Buongiorno amici e buona festa dell'Epifania che tutte le feste porta via, per fortuna, perché qui a furia di mangiare, di bere, di uscire, è un disastro, non vediamo l'ora tutti in famiglia che arrivi lunedì per poter tornare ad un'alimentazione corretta e normale. Buona festa dell'Epifania che come sapete ovviamente non è la festa della Befana che tutti gli uomini festeggiano, ma è la festa di tre uomini, i tre remagi, che hanno intrapreso un viaggio e si sono inginocchiati davanti alla natività e davanti ad una donna. Quindi festa dei remagi. Molto bene! Allora oggi video all di un discount che ho appena scoperto e che è appena arrivato nella mia città. Si chiama Action Discount, non lo conoscevo. La mia amica Lella, sempre pronta a scovare le novità, mi manda una fotografia un giorno, mi dice Eli guarda, stanno aprendo Action, tu lo conosci? No. Allora andiamo su internet, cerchiamo tutte le informazioni. Action Discount è un discount che è presente nel nord Italia, guardando la localizzazione di tutti i negozi e Francia, Austria, Germania, Danimarca, qualche negozio in Spagna però in tutta questa fascia dell'Europa. È un discount che ha varie tipologie di prodotti, pulizia della casa, tanti casalinghi, tanta beauty care, cosmesi, profumi e una parte abbastanza consistente, almeno nel mio discount, di hobbistica, soprattutto scrub booking, pittura, tempere, insomma tutte queste cosine molto carine e noi ne abbiamo approfittato. Questa è la prima puntata e vi faccio vedere praticamente quello che abbiamo acquistato io e la Lucia per quello che riguarda l'obbistica, la casa e la polizia. Oggi pomeriggio registro l'altra parte che è cosmesi, trucchi, beauty care, beauty hair, beauty beauty e tutto quanto. Volevo anche dirvi che l'anno è iniziato bene e male, nel senso che purtroppo la mia amica di cui vi avevo parlato qualche video fa, se n'è andata l'altro ieri e quando succedono queste cose, oltre al fatto di confrontarmi sempre con quello che è la mia fede, che è molto insicura, instabile e piccola così, mi confronto sempre sul valore della vita e su quanto sia bella la vita, su quanto sia bello tutto quello che abbiamo intorno, su quanto sia giusto e doveroso volersi bene, prendersi cura di se stessi non solo dal punto di vista estetico, fisico, ma dal punto di vista psicologico, emotivo, quindi di fare veramente ogni giorno quello che ci piace e quindi se ci piace sia perché ci servono sia perché ci piacciono profumi, cosmetici, pennarelli, insomma tutto quello che ci fa star bene e che ci fa vivere bene, facciamolo. Vogliamo colorarci i capelli di viola? Facciamolo, non stiamo facendo del male a nessuno. Se noi stiamo bene, stiamo bene con gli altri e stiamo bene con noi stessi e la nostra vita è più bella. La vita è, sia per chi non crede, sia per chi crede, un passaggio e facciamo sì che questo passaggio sia bello, da qualsiasi punto lo si guardi. Sempre di cose belle invece vi voglio parlare che ieri sono andata a trovare Pietro e sono andata a trovare anche Michela Di Maio che ha un bellissimo locale dove si mangia divinamente. È stato bello poterla incontrare anche se in maniera veloce perché ovviamente lei stava lavorando e noi invece eravamo in giro a cazzeggiare, ma è sempre molto bello e piacevole dare un volto vero alle persone che si seguono, di cui si astima, di cui si ascoltano i suggerimenti, di cui, cioè con cui ci si diverte insieme, no? E spero davvero di avere l'occasione di approfondire questa amicizia, ma ci sarà l'occasione perché appunto Pietro abita molto vicino a dove abita lei e quindi andando a trovare Pietro avrò l'occasione di poterla rincontrare e di poter chiacchierare ancora con lei. Comunque ragazzi, cioè una donna, io dico ragazza perché è giovane sta ragazza, è bellissima, 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 gentilissima, simpatica, stupenda, ecco. Ma cominciamo con lo svuota la spesa. Mi sono segnata anche tutti i prezzi perché se anche voi avete action dalle vostre parti so che purtroppo non è presente in tutta Italia, magari posso essere di spunto a qualche acquisto. Allora, abbiamo comprato tante cose che servono a Lucia per la scuola, ma di alcune cose sicuramente io ne farò uso perché amo da sempre la cancelleria, i pennarelli, mi piace quando faccio i miei appunti, farei gli appunti di colori diversi, faccio qualche disegnino, insomma avevo da ragazza delle agende piene di disegni, di schemi fatti tutti rigorosamente colorati e quindi sicuramente li ruberò a lei. Allora, veniamo a noi. Abbiamo preso queste penne a sfera che servivano a Lucia, non le ne ho ancora aperte, il colore dell'inchiostro è tutto uguale, ma sono tutte cromate e queste 5 penne a sfera costano 0,99 centesimi. Mi sono scritta rigorosamente dallo scontrino tutti i prezzi in modo che anche voi possiate sapere quanto costano. Poi abbiamo preso, abbiamo, dico sempre abbiamo, 1, 2, ce li abbiamo presi tutti, 3 e 4, ve li faccio vedere tutti insieme, sono dei pennarelli tipo i pantone, questi su tutte le sfumature del viola, ve li faccio vedere giù, dritte, sì, ok. Sono 12 pennarelli su tutte le sfumature del viola, 12 pennarelli sulle sfumature del rosa, sfumature del arancione e del verde. Adesso ne apriamo uno, se riusciamo, perché sono, vediamo qua la forbice, sono molto carini perché sono confezionati in questi contenitori, dovevo aprirlo dall'altra parte, facciamo che, vediamo se riesco, sì, no. lo apriamo dall'altra parte, bellissimi sono, questi servono a lei per la scuola, ma ce la posso fare senza spaccarmi le unchi, scassando su tutta la, tra due ore siamo ancora qua. ragazzi, qui sono proprio incastrati, ah, ok, ce l'abbiamo, allora, sono in questo contenitore molto carino, come vedete qui dietro ci sono dei gancetti e si possono appunto impilare uno sopra l'altro e davanti a questa soluzione la Lucia ha detto, oh my good, devo assolutamente mettere in ordine la mia scrivania, sì, altrimenti questi rimangono a mamma tua. Bellissimi, hanno la punta sottile da una parte e invece la punta un po' più grossa dall'altra parte. Stupendi, io amo tutte queste cose. e quindi, eh, quattro tipologie di colori e ogni confezione costa due euro e novantanove e anche se dovessero consumarsi nel giro di breve tempo, insomma, non costano come i pennarelli di pantone, ma per l'uso che ne farà Lucia vanno assolutamente bene. Vediamo se riesco a mettere tutto qua sulla scrivania perché vi è un rebelotto. Poi, sempre in tema creatività, eh, Lucia sta facendo dei lavori a scuola, abbiamo preso questo set di colori acrilici, io ne avevo, ehm, una scatola ma essendo molto vecchi poi si sono seccati e quindi questi 24 tubetti di colore acrilico di 22 millilitri sono costati 4,79 euro e va anche bene che siano piccoli in modo che quando si consumano almeno non si seccano, si consumano e poi eventualmente si ricomprano, insomma, però guardate che belle sfumature, sono meravigliosi a 4,79 euro. poi ho preso, io li ho messi nelle cose casa ma sono sicura che andranno a finire nel beauty, comunque questa scatolina con 12 riponi rocchetti che però io pensavo di non utilizzare per i rocchetti della macchina da cucire dove ho già un porta rocchetti ma potrebbero essere utili per metterci i rossetti perché ho intenzione in questi giochi, in questi ultimi due giorni di vacanza di sistemare un po' il bagno, io non ho una beauty table dove poter mettere i trucchi, ho la mensola grande del bagno e volevo sistemarla un po' facendo fare anche un po' di rotazione dei trucchi altrimenti ce li ho sempre nascosti all'interno dei miei contenitori ma uso sempre i soliti rossetti, le solite cipre, le solite matite, a questo punto ho comprato che poi vedrete nel prossimo video anche un organizer dei cosmetici da impilare a un altro organizer dei cosmetici e così posso fare la rotazione delle mie polveri, dei miei fondotinta e qui ci volevo metterci proprio, qui ci volevo metterci sempre l'italiano correggiuto, volevo metterci i rossetti, 12 rossetti sono perfetti per fare la rotazione bisognita, settimanale, sempre in tema di organizer ho comprato, ah questi non vi ho detto cosa costa scusate, 2 euro e 44, la plastica è veramente molto solida, ci sono davvero un sacco di questi contenitori molto molto carini e poi ho comprato questi 4 contenitori trasparenti che vorrei appunto utilizzare anche questi per metterci non lo so che cosa devo guardare quando risistemo, magari le paletti in fila, non so perché adesso sono arrivata a tipo un 50 paletti, una roba del genere, con il coperchietto, quindi se ci metto le paletti il coperchietto non va ma se ci metto altro c'è il coperchietto e si possono anche impilare una sopra l'altra e questi li ho pagati 0,88 l'uno con il coperchietto, sono molto carini, trasparenti, possono anche essere utilizzati per la cucina, ci sono davvero un sacco di soluzioni, mi abbasso, poi 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 poi, sempre per la cartoleria, vabbè, 3 colle pelican, 2,19€ la confezione da 3, queste servono sempre in casa, per lobby, per la scuola, veniamo ora a quello che è, diciamo, materiale che serve per la casa, allora, qui non so se ho fatto un buon acquisto, io ho provato, da tempo miravo a comprare la lampada catalitica, però i prezzi, vabbè, mi facevano sempre un po' fermare, questa l'ho trovata a 7,49€, adesso l'apriamo insieme perché non le ho neanche aperte, le ho comprate poi ieri siamo stati via, quindi non l'ho guardata, come si fa ad aprire qua, ci metteremo un'altra mezz'ora, no, ok, allora, quelle che avevo puntato erano di Berger, lo so che sicuramente la qualità sarà magari migliore, però, vabbè, vediamo un po' com'è questa lampada, allora, la lampada è in vetro, qui c'è dentro lo stoppino per bruciare, l'imbutino per poter metterci il liquido e il tappo perché poi una volta che viene messo lo stoppino si mette sopra il tappo e la lampada emana il suo profumo, la proverò e poi vi dirò bene com'è, e ho comprato due profumazioni, questa, vediamo se riesco a leggere, oh, ma c'è scritto in tutte le lingue tranne che in italiano, seppè, c'è scritto solo pericolo in italiano, ovviamente, Essenzia per lampada aromatica, Fragranzo Oila, che fragranza? buh, sentiamola, mi sente ovviamente la parte alcolica, non saprei dirvi, vabbè, farò la prova, comunque questo barattolone da 750, ah no, Exotic Leak, questa è la profumazione, poi vedremo, comunque 750 ml di liquido, 5,95€ in questa profumazione e poi ho preso anche questa profumazione che è Madame Million, che non saprei dirvi, verde, magari è qualcosa di fresco, comunque le proverò e poi le recensiremo e vi dirò cosa ne penso, 5,95€, anche questo, mettiamoli qua, che stanno qua, non ci stiamo più, poi ho preso, questa era in edizione limitata, una profumazione per il mio GLED grande, Spice Apple e Cinnamon, quindi mela speziata e cannella, ho già letto giusto, mela speziata e cannella da usare nel mio GLED, questa costava 2,78€, quando al Tigotau ad Acqua e Sappone le ho trovate a 4€ e passa, quindi ho voluto prenderne una per vedere com'era la profumazione, visto che l'altra mi sta finendo. ho comprato le solite pile dell'Avarta, perché queste mi servono sempre, 2,69€ 10 pezzi, poi era in super offerta questo Finish Classic da lavastoviglie, con 85 tavolette a 7,49€, e quando ci sono i detersivi per la lavastoviglie in offerta, lo sapete che io li prendo sempre, perché non posso, non posso lavare i piatti a mano. e come ultimo ho preso queste, queste vi giuro che mi hanno conquistato per il disegno e per il pack, perché erano troppo belli, dei pulitori per la cucina o anche per il bagno, con il 98% di ingredienti naturali e il 100% della bottiglia è fatto in plastica reciclata, qui abbiamo 1, 2 e 3 profumazioni, cioè guardate voi che carini che sono, con i disegnini, questo 1 lo porterò in ufficio all'arientro, così da tenerlo di scorta, questo è Rosemary e Ginger, vediamo se c'è scritto... a che profumazione, non riesco neanche a capire la profumazione, comunque fidatevi, scritta così, Rosemary e Ginger, e questi costavano 1,49€ per 750ml di prodotto, poi ho preso questo al lime e black pepper, quindi lime, lime e pepe nero e quest'altro al bergamotto e gelsomino, li proveremo e poi vi farò sapere. Bene ragazzi e ragazze, per il giorno dell'epifania abbiamo finito il nostro svuota la spesa del discount action, devo dire che mi è piaciuto molto, non lo conoscevo, grazie Lella perché mi hai fatto scoprire questa chicca, il 2023 sarà per l'ecco l'apertura di nuovi negozi, ci sarà anche adesso a fine marzo, o a marzo comunque la Lidl, e quindi andremo a vedere un po' che cosa ci offrirà, io adesso risistemo tutto, vado a mangiare la mia cognata, oggi sono io l'invitata, cioè io e la mia famiglia l'invitati, e poi nulla, nel fine settimana e lunedì ricominceremo a lavorare, ricominceremo tutto nella normalità, e questo non mi dispiace perché i tempi di festa e comunque i tempi di vacanza sono anche belli, perché sono solo dei tempi limitati, e poi si ritorna un po' a tutta l'organizzazione e alla normalità della nostra vita. Ricordatevi sempre davvero di fare quello che vi fa stare bene, quello che vi piace, senza aver paura del giudizio delle altre persone, io per tanti anni ho avuto paura del giudizio delle altre persone, ma questa, quando mi dicevano, oh ma quanti soldi che spendi per le tue cose, oh ma quanto tempo che butti via, ricordatevi sempre che il tempo non si butta mai via, il tempo si investe in qualsiasi cosa voi fate, può essere anche che vi state pitturando le unghie, che vi state colorando i capelli, che vi state truccando, è tempo che voi investite per il vostro star bene, e per la vostra pace interiore. Se voi state bene con voi stessi, ovviamente, e non arrecate danno a nessuno, fatelo, il giudizio degli altri rimane fuori dalla porta, perché poi la vita ci regala sempre, purtroppo, perché è la vita, dei momenti in cui dobbiamo confrontarci con il dolore, con la rassegnazione, con le cose brutte, e se noi siamo forti, perché abbiamo vissuto bene, perché ci siamo caricati, perché stiamo bene con noi stessi, riusciamo ad affrontare le cose brutte in maniera diversa, le cose brutte non le cancellerà mai nessuno, ma le si affronta in maniera diversa. Va bene, dopo questa filippica, io vi saluto, vi auguro una buona giornata dell'Epifania, e ci rivediamo presto con il prossimo, svuota la spesa, Cosmesi, Beauty, Aircare, e tutto quanto. Ciao e buona giornata!